Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo video brevissimo Vi volevo dire Che domani Vesso il 9,9 e mezza non vi dovete perdere Qui Sul mio canale un video Il video del 25 dicembre Scarto i regali Forse Perché forse mi regalaranno un libro O un kit Un kit di non dico cosa E ci sta Una cosa molto bella Comunque ragazzi Ora vi metto due o tre tiktok dei miei Che ho fatto in questi giorni E ciao Cosa hai fatto al cricetto? Ma non ho fatto niente Non dirmi le bugie Perché ti ho visto lanciarlo fortissimo Dicendo Pikachu scelgo te Oh si è stata una figata Ci ho creduto E volevo dire Ma io pensavo si trasformasse A Natale è a Natale si cofano E si può fare di più per noi A Natale puoi Avete visto? A Natale a Natale si può fare di più Per noi A Natale puoi A Natale si può fare di più per noi A Natale si può fare di più per noi